abbiamo alessandro siamo via bruno bozzi a raduno dei perennari di torino 11 giugno 2022 partiamo dalle scarpe timbalan vela due occhielli le classiche in produzione odierna jeans levis levis sono gli slim quelli di adesso cintura di el charro dell'epoca con fibbia t-shirt della best company mission olmer scarretti sottolineo raiban new generation perché hanno l'astina trasparente dell'acce di famosi olympian quelli che si chiamano da rimoto i tozzi li piegavano anche a milano ovviamente li piegavano e poi abbiamo un tocco di classe il bradley al polso un po più da iupis però sempre stile agnotata